Ben trovati su CTS Notizie per questa edizione che apriamo con la cronaca con un'ennesima tragedia familiare che si è consumata a Latina dove Antonio Grasso, l'agente penitenziario originario di Barcellona Pozzo di Gotto ha ucciso la moglie prima di togliersi la vita, inutili i soccorsi chiamati dalle figlie quando sono giunti, era ormai troppo tardi il servizio. Uccide la moglie che lo aveva denunciato per maltrattamenti e poi si toglie la vita sparandosi un colpo alle tempie. L'autore è un agente della polizia penitenziaria originaria di Barcellona Pozzo di Gotto, Antonino Grasso di 38 anni, residente a Cisterna, comune in provincia di Latina. L'uomo in servizio da appena un mese al carcere di Velletri ha infatti ucciso la moglie Tiziana di 36 anni che lo aveva denunciato per maltrattamenti e poi si è tolto la vita sparandosi. Antonino intorno alle 16.30 ha sparato alla consorte con la pistola d'ordinanza al culmine dell'ennesima lite familiare che stava segnando la definitiva separazione coniugale, poi ha rivolto la pistola contro se stesso. Al momento della tragedia in casa c'erano i due figli della coppia, due bambini di 6 e 7 anni che terrorizzati hanno chiesto soccorso ai vicini che giunti sul posto hanno poi avvertito la polizia. I bambini sono stati affidati ai nonni materni che abitano nella stessa cittadina laziale. Antonino Grasso era stato trasferito da poco a Velletri, a pochi passi dal comune d'origine della moglie, dopo aver prestato a lungo servizio nella casa circondariale di Biela in Piemonte. La tragedia si è consumata quando l'uomo finito il suo turno di lavoro è rientrato a casa, dove la donna gli avrebbe chiesto di allontanarsi, annunciando la decisione di incaricare un avvocato per denunciare il marito per maltrattamenti. Poi la tragedia che è messo fine ai dissapori della coppia è che lasciano orfani due bambini di 6 e 7 anni. E prima di cambiare argomento, di parlare delle novità che circolano attorno allo stabilimento di Termini Imre, se facciamo una breve pausa per la pubblicità, restate con noi. Safir Nata con prerogative di alta qualità, oggi Safir è l'industria per la sicurezza che, senza smentire un passato esclusivamente artigianale, abbina tecnologie molto raffinate e moderne all'esperienza e manualità che da sempre la contraddistingue. Safir, la sicurezza dei tuoi beni più cari. La Sicilia muore, ma si può ancora salvare. È indispensabile imboccare subito la strada della crescita. Perché accada, la classe dirigente siciliana deve intervenire sulle istituzioni, affinché diventino efficienti. Perciò serve l'informazione investigativa, propositiva ed efficace. Scoprila su QDS.it Campagna Etica 2014 Abbonati al quotidiano di Sicilia Il tuo contributo è un prezioso sostegno al grande progetto di risorgimento Sicilia per lo sviluppo e l'occupazione. Riapre lo stabilimento di Termini Merese, a comunicarlo è la FIOM che ha reso noto che il gruppo Grifa produrrà City Car. Entro il 2018 è previsto inoltre l'inserimento di 760 lavoratori. Il servizio di Laura Tripoli Si apre uno spiraio di luce per la riappertura dello stabilimento di Termini Merese, chiuso nel novembre del 2011. Al termine dell'incontro al Ministero dello Sviluppo Economico con Invitalia, la FIOM ha reso noto che il gruppo italiano Grifa produrrà City Car. Lunedì al mese è previsto un nuovo incontro per definire alcuni dettagli di carattere tecnico, per procedere al passaggio di fabbrica e personale con la formula della cessione del ramo d'azienda alla nuova società. Entro fine mese Invitalia e Grifa dovrebbero definire il patto di servizio che consentirà l'avvio del progetto di riqualificazione del polo industriale di Termini Merese. Ad Invitalia è stato chiesto di accelerare i tempi di certificazione sulla fattibilità del progetto Grifa ed è stata comunicata l'adesione della banca brasiliana BRJ al finanziamento del progetto per termini. Entro la prossima settimana saranno confermati anche 25 milioni di euro annunciati da Grifa. Per il progetto di Termini Merese è prevista la produzione regime di sette modelli su due piattaforme. Entro il primo trimestre del 2016 sarà terminata la fase di progettazione e sviluppo, subito dopo la produzione della cosiddetta pre-serie, per passare nel secondo semestre alla produzione di serie. Entro il 2018 è previsto l'inserimento di 760 lavoratori. E al Teatro Massimo di Palermo arriva nei fondi per le maestranze. Durante la conferenza stampa il sovrintendente Francesco Giambrone ha annunciato l'avvio della stagione 2015 che avrà inizio il prossimo 7 febbraio. Ascoltiamo. La stagione 2015 del Teatro Massimo inizierà il 7 febbraio all'insegna della tranquillità economica. A dare l'annuncio il sovrintendente Francesco Giambrone durante la conferenza stampa di presentazione della nuova stagione sinfonica. Al governo centrale sono stati chiesti i fondi per coprire le spese per gli stipendi delle maestranze del teatro. Il Teatro Massimo è stato commissariato e questo ha provocato un progressivo contenimento dei costi e una maggiore produttività artistica per incrementare i ricavi. Ai lavoratori sono state rimodulate le indennità di rendimento e quella relativa all'attività promozionale. È stata soppressa l'indennità per gli strumenti speciali e il premio di produzione che è stato riconosciuto esclusivamente nella misura prevista dal contratto nazionale di lavoro sottoscritto il 25 marzo scorso. All'inizio e lo scorso luglio il ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo Dario Franceschini ha nominato Francesco Giambrone nuovo sovrintendente della fondazione lirica parermitana. Francesco Giambrone è arrivato al Teatro Massimo dopo 18 mesi di commissariamento affidato al prefetto Fabio Carapezza Guttuso. Il messaggio è che questo teatro deve essere innovativo. Per essere innovativo dobbiamo introdurre con un concetto di modernità e di aggiornamento riguardo alle grandi linee europee e internazionali anche nelle stagioni tradizionali, cioè l'opera e la sinfonica. Quindi l'idea di iniziare con un progetto di Roberto Andò, Marco Vetta sul testo di Andrea Camilleri è sicuramente uno start-up di notevole rilievo. Poi naturalmente non dimentichiamo la parte classica, abbiamo una serie di concerti di Beethoven su sinfonie, opere meno conosciute, quasi tutte in prima esecuzione palermitana, siciliana e anche italiana ma soprattutto anche lì l'idea di innovazione che come qualcuno di voi sa che ci segue in questo teatro i concerti di Beethoven normalmente sono cinque e in realtà noi ne facciamo sentire sei, cioè abbiamo scoperto il sesto concerto di Beethoven. Caos e disagi a Palermo nella zona di Corso dei Mille compresa tra Piazza Scaffa e la stazione centrale la demolizione del ponte Testemozzo e la costruzione di un nuovo ponte sullo letto stanno infatti creando non pochi disagi agli automobilisti che percorrono ogni giorno quelle strade. Sentiamo. Traffico caos e cittadini infuriati a Palermo. Seconda mattina di Trambusto in seguito all'attuazione dell'ordinanza comunale che ha cambiato i sensi di circolazione nella zona di Via Messina Marina e Corso dei Mille. I cittadini infuriati continuano da ieri a prendere d'assalto il centralino dei vigili urbani con proteste e lamentere. La causa del Trambusto è dovuta alla chiusura necessaria per la demolizione del ponte e delle Testemozzo che consentirà la realizzazione di un nuovo ponte bimodale sul fiume Oreto. Il punto di maggiore criticità del traffico è quello del quadrilatero di Via Adorno, Via De Picciotti, Via Cappello e Via Le Messina Marine. Proprio su Via Messina Marine è stato istituito il senso unico di marcia da Via Salvatore Cappello a Via Mariadorno. Qui è stata collocata una barriera di restringimento sul lato di Via Adorno per evidenziare l'obbligo di svolta a destra per i veicoli che provengono dal foro Umberto I. Mentre per quelli che provengono da Via Messina Marine è possibile andare in direzione del foro italico o girare sempre per Via Adorno. In mattinata si è svolto un summit tra l'amministrazione comunale, i vigili urbani AMAT e SIS per studiare le possibili soluzioni. Nuova allerta meteo prevista per domani in Sicilia dal Dipartimento della Protezione Civile. Secondo le previsioni infatti i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità e forti raffiche di vento. Ascoltiamo. Torna l'allerta meteo in Sicilia. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un nuovo bollettino che prevede per l'isola criticità gialla per rischio idraulico e idrogeologico. Sulle regioni del nord e sulla Toscana e poi in estensione Calabria, Basilicata, Sicilia e Puglia si attendono per le prossime 24-36 ore precipitazioni sparse anche a carattere di temporale e venti forti con raffiche di burrasca sudorientali. Secondo le previsioni i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata criticità rossa per rischio idrogeologico su gran parte della Liguria e in Toscana. Livello arancione invece sul resto della Liguria, Piemonte, su gran parte della Lombardia e sui settori occidentali, emiliani e toscani, nonché sul Lazio settentrionale e sulla Sardegna meridionale. Ancora criticità arancione, ma per rischio idraulico diffuso, sui settori del Friuli Venezia Giulia e sulla pianura di Modena e Reggio Emilia. Frane e allagamenti si sono già verificati in Liguria, dove una coppia di anziani risulta dispersa dopo una notte di pioggia e temporali intensi, mentre due donne, di cui una incinta, sono state salvate in extremis dopo che la loro casa è stata spazzata via dal fango. I temporali, che si sono abbattuti su Levante Ligure e in particolar modo sul Tiguglio, hanno fatto esondare quasi in temporanea il torrente Entella, lo Sturla e il rio Rupinario. Una decina di persone è stata salvata dai sommozzatori dei Vigi del Fuoco, che con speciali gommoni da rafting hanno passato al setaccio le vie del centro di Chiavari, invaso dalle acque. E' una mareggiata fortissima. Messina ha provocato l'insabbiamento del porto di Tre Mestieri. Tutto fermo dunque per il momento e le operazioni per rendere nuovamente fruibile lo scalo marittimo dureranno almeno dieci giorni. Sentiamo. La sabbia entrata durante la recente mareggiata nel bacino del porto di Tre Mestieri di Messina è tra i 25 e i 30 mila metri cubi. Il dato emerso da un sopralluogo effettuato ieri dal segretario generale dell'autorità portuale. Visto che vi è in arrivo una nuova ondata di scirocco, bisognerà attendere ancora qualche giorno per far entrare in azione il motopontone per ripulire i fondali. Era prevedibile che dall'arrivo di un vento forte che avrebbe ingrossato il mare, la sabbia poteva entrare all'interno dell'invaso, ma i lavori effettuati alla diga protettiva non lasciavano immaginare ad un insabbiamento simile. L'insabbiamento non è il primo e probabilmente non sarà l'ultimo. Solo con l'ampliamento del porto si potrà pensare a ridurre il rischio davvero al minimo. Per consentire di riaprire in tempi brevissimi almeno lo scivolo 1, si darà in carico all'impresa Scuttari di iniziare a dragare l'estremità della spiaggetta che si è creata all'interno del bacino. L'apertura parziale eviterebbe che tutto il traffico del gommato pesante si riversi in città, come ormai avviene da giorni, per riaprire completamente il porto di tre mestieri, calcolando che il motopontone San Luca I può asportare 250.000 metri cubi di sabbia al giorno. Ci vorranno circa due settimane. Insomma, le città dovranno continuare a soffrire per la presenza dei tiri in città, almeno sino a fine mese. Amministrazione comunale, polizia municipale hanno studiato un piano per fronteggiare l'invasione con la presenza di più pattuglie nei punti cruciali. Fenomeno dell'abusivismo edilizio in forte crescita in Sicilia colpisce soprattutto i grandi centri abitati. I ritardi amministrativi in ogni caso non fanno altro che arenare le procedure di demolizione. Il servizio. Dalla finestra abusiva alla sopraelevazione non autorizzata, la veranda su prospetto, fino a casi più emblematici come la costruzione in siti archeologici, riserve e litorali, con una distanza inferiore ai 150 metri imposti dalla legge. Ecco la vetrina dell'abusivismo edilizio in Sicilia, solo alcuni esempi di un fenomeno che non sembra arrestarsi e che colpisce soprattutto i grandi centri. A confermarlo i dati raccolti nel 2014 dalla polizia municipale in un database che può essere consultato anche dalle forze dell'ordine. La criticità però è ben altra. Ritardi amministrativi, lungaggini burocratiche che fanno impantanare le procedure di demolizione, spesso arenate nei cassetti dei comuni, nonostante la minaccia di severissime sanzioni però difficilmente applicate. Un campanello d'allarme che ha fatto scattare misure ispettive inviate in 200 comuni dal dirigente generale dell'urbanistica Maurizio Pirillo per stabilire cosa ci sia dietro questi ritardi. Il sospetto è che ci possa essere una sorta di complicità di alcuni enti locali, poiché ogni 15 giorni nel database dovrebbero essere inseriti i dati degli abusi scoperti e ogni anno quelli dello Stato e le sanatorie. Procure comuni poi devono prontamente attivare le procedure di demolizione, procedure però che spesso non partono. L'altro aspetto deterrente è la mancanza di fondi che talvolta diventa alibi per i ritardi delle amministrazioni e quanto denuncia Gempiero Trizzino, presidente della Commissione Ambiente all'Ars, in quota 5 stelle, che ha proposto un disegno di legge per creare un fondo di rotazione dal quale i sindaci potrebbero attingere per abbattere le costruzioni abusive, per poi rivalersi sui privati e restituire le somme. Spesso gli amministratori locali giustificano i ritardi nelle demolizioni sulla base di difficoltà interpretative della normativa, dichiara Trizzino. Ad esempio, col terzo condono erano sorti dubbi sulla possibilità di sanare anche gli edifici costruiti in zone sottoposte a vincolo. Il Movimento 5 Stelle era infatti riuscito a far revocare la circolare che salvava queste costruzioni, opera dell'ex assessora al territorio, Mariella Lobello. Arresti a Paceco, dove tre uomini sono stati sorpresi mentre cercavano di rubare materiale edile. E a Trapani, dove invece i carabinieri hanno fermato due rumeni per furto aggravato a una cantina di vino. Il servizio. Non si fermano le attività di controllo del territorio per la prevenzione e la repressione dei reati predatori da parte dell'arma dei carabinieri. Infatti i carabinieri della compagnia di Trapani hanno tratto in arresto 5 persone per furto aggravato. Nel primo caso i militari della stazione di Paceco hanno sorpreso tre soggetti, rispettivamente di 41, 33 e 31 anni, tutti originari della provincia, che si erano introdotti nel cantiere della biblioteca comunale al fine di sottrarre alcuni materiali edili momentaneamente depositati per le esigenze di ristrutturazione dell'edificio. Ma il tempestivo intervento della pattuglia ha evitato che tre riuscissero a darsi alla fuga portando al termine il loro intento criminoso. I malviventi sono stati bloccati e dichiarati in arresto per furto aggravato in concorso e la riflutiva è stata integralmente recuperata e restituita al personale del comune di Paceco. Con la medesima accusa sono stati fermati nella frazione di rilevo due cittadini di nazionalità rumena di 39 e 23 anni, che dopo aver forzato una finestra posteriore si erano introdotti nei locali della cantina sociale che si trova incontrata a Marcanz, per impossessarsi delle valvole e delle cisterne per la raccolta del vino. All'arrivo dei carabinieri due avevano già smontato 160 dei costosi dispositivi per un valore complessivo di circa 50.000 euro. Anche in questo caso l'arrivo dei militari alla stazione di Locograndel, nel nucleo radiomobile della compagnia di Trapani, ha impedito la consumazione di un grave reato, permettendo di assicurare alla giustizia due malviventi. Per tutte e cinque è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni. Spese per oltre 500.000 euro per un asilo mai effettivamente utilizzato, accade a Contessa in Tellina, nel Palermitano. L'edificio ormai versa in pessime condizioni. È stato fissato per il prossimo 18 novembre la gara d'appalto per l'acquisto degli arredi della struttura e il servizio. Una spesa per oltre 500.000 euro per un asilo che non è mai stato attivato. Accade a Contessa in Tellina, un paese in provincia di Palermo, con meno di 2.000 anime. Nel 2014 il comune della Valle del Belice pubblica un bando per la ristrutturazione dell'asilo nido comunale e per l'acquisto degli arredi, per un totale di 524.000 euro. Ad oggi però la struttura, costruita nel posto remoto del 68, non è mai stata attivata e quindi non è mai servita. Neanche la tragica diminuzione della popolazione, che viene a nascere dai 3 ai 6 bambini in anno e la disoccupazione che va aumentando, sarebbe una giustificazione per tale spreco. Anche se ci fossero bambini e se il comune riuscisse nella ristrutturazione, c'è da chiedersi chi dovrebbe pagare l'arretta e con quali fondi il comune potrebbe sostenere il costo, se oggi non riesce neanche a mantenere la struttura. Con gli infissi di ferro, la facciata cadente e la pavimentazione irregolare, l'edificio si trova in pessime condizioni. Nel frattempo il comune ha preferito verniciare le ringhiere di un'area verde periferica, piuttosto che quelle dell'asilo nido. Intanto rimane fissata per giorno 18 novembre la gara d'appalto per l'acquisto degli arredi dell'asilo. Adesso la pubblicità, tra poco torneremo in studio per parlare di sport. Restate con noi. Comunica. Vigilanza fissa. Punzonature. Trasporto valori. Global Security International. Consorziato Sicurgem. Contattaci per la tua sicurezza. Chicovo. Un amore d'uomo. E' un Palermo assolutamente rinato che regala bel gioco e risultati. Il presidente rosa nero Maurizio Zamparini si dice soddisfatto e spende belle parole anche per il suo gioiello Paolo Di Bala. Ascoltiamo. Zamparini gongola e non può fare altrimenti. Il suo Palermo ha ritrovato gioco e punti ma soprattutto ha trovato finalmente un Paolo Di Bala pronto a mantenere le promesse di due anni fa. Quelle stesse promesse che hanno spinto Zamparini a mettere mano al portafogli per portarlo in Sicilia. Dall'Argentina 12 milioni di euro tra stipendio, cartellino e commissioni varie ma al netto delle prestazioni messe in campo dalla Cogia sembra esserne valsa la pena. Il patron rosa nero ospite della trasmissione Tiki Taka in onda su Italia 1 non ha certo frenato l'entusiasmo per l'esplosione del suo gioiello. Oggi Di Bala vale più di 40 milioni ha detto Zamparini ma spero di trovare un socio che venga a Palermo per portare i soldi utili a tenerlo. Noi siamo costretti a fare plus valenze per non fallire. Senza plus valenze il Palermo non pareggerebbe il bilancio. Ci sono stipendi e tasse che ci mandano in passivo. Prezzo fissato dunque però ad entusiasmare il presidente Zamparini sono i paragoni con gli altri big passati all'ombra di Monte Pellegrino. Cavani l'hanno fischiato come hanno fatto con Pastore Hernandez dice Zamparini. Oggi gioca accanto al miglior giocatore del mondo che è Ibrahimović. Tra due anni però il miglior al mondo sarà Di Bala che oggi è già il miglior attaccante in Italia. Tra due anni ne riparleremo. Un'investitura importante dunque per il numero nove rosa nero. Quella di migliore attaccante di un campionato che presenta tra gli altri giocatori del calibro di Higuain. Tevez riprese intanto fissata per domani. Palermo che tornerà in campo lunedì 24 a Marassi contro il Genoa. E in Serie B è il Catania che torna a far sorridere e gioire ai propri tifosi dopo la vittoria contro il Barese che dà respiro al Rosso Blu. Grandi aspettative intanto per il derby di sabato contro i Granata delle Trapani. Squadre gemellate le due ma le tifoserie pretenderanno il massimo. Ascoltiamo. Una vittoria che doveva arrivare a tutti i costi e che alla fine è arrivata. Il Catania torna a far gioire i propri tifosi dopo la deludente trasferta sul campo dell'Avellino ottenendo contro un ottimo Barese la terza vittoria nelle ultime quattro giornate e ribaltando in pochi ristazionavano all'ultimo posto mentre dopo l'ottimo tris infilato tra le muramiche del Massimino la classifica è decisamente più magnanima con gli uomini guidati da Sannino prossimi ad affacciarsi nella colonna sinistra della graduatoria per la prima volta dall'inizio del campionato. Una ripresa lenta ma comunque costante che va però trasformata in andamento continuo con un'inversione di rotta lontano da Catania. Dati già sviscerati alla mano il Catania ancora la peggior squadra e la cadetteria per rendimento in trasferta con un solo punto conquistato finora e diverse scopole clamorose come il 3-0 subito al picchi contro lo Spezia. Il prossimo avversario che i rossazzurri si troveranno davanti in un impegno esterno sarà il Trapani appunto domenica ad ora di pranzo reduce da un pochino troppo severo patito al matussa di Frosinone ma comunque un avversario particolarmente ostico visto che è grata in terra socialia si giocavano addirittura alla testa della classifica del campionato cadetto. Una partita molto importante per Sannino e i suoi ragazzi al di là dell'essenza di un derby siciliano da vincere per provare a riprendersi la supremazia regionale almeno limitatamente alla Serie B. Oltre all'arrività locale parzialmente mitigata dal gemellaggio che vige tra le due tifoserie c'è infatti una partita da vincere per continuare a scalare la classifica. E per adesso è tutto vi ringrazio per averci seguito vi lascio alla pubblicità e poi alle prossime edizioni arrivederci. Grazie. 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 Grazie.